Ciao a tutti! Quest'oggi voglio farvi una domanda. Quante volte vi è capitato durante un orario di lavoro oppure in giro per commissioni, durante magari un viaggio breve o lungo che sia, in giro in posti che non conoscete, per un evento, magari durante una cerimonia oppure una gita fuoriporta, una cena di lavoro. Insomma, quando non siete a casa e avete tutto a portata di mano, puntualmente, eccolo, l'inconveniente di turno. Il bottone che si scuce, un piccolo foro, una piega che perde la propria cuscitura e che in quel momento proprio non va bene e rischia di rovinarvi tutta la giornata, tutto il momento, tutto il viaggio. Abbiamo la soluzione adatta per voi, il kit da cucito per viaggio. Ne abbiamo ben due soluzioni, guardiamo un po' che cosa c'è dentro. Eccolo qui, vediamo il primo di oggi, quindi il kit cucito da viaggio, contenuto in questa pratica confezione rigida in plastica, di questo bel colore giallo, in modo tale che possa essere davvero molto semplice ritrovarla, che si apre, eccolo qui, davvero molto semplicemente, nel quale vedremo adesso che cosa potrete trovare. Ci saranno, eccoli qui, dei pratici bottoni automatici, dei bottoni per camice, dei praticissimi aghi, eccoli qui, perfettamente confezionati, dei filati in vari colori, eccoli, qui, eccoli qui, ovviamente li vediamo già degli spilli con testa di vetro, delle spille da balia o spille di sicurezza che possono essere senz'altro molto utili all'occorrenza, un infilaghi, eccolo, delle forbici in metallo, un metro per sarti, un taglia in bastiture, un infilanastri, eccolo qui, e infine un ditale. E veniamo invece al nostro secondo kit da cucito, questa volta in jeans, con questa bellissima zip colorata, non rigido ma morbido, ma allo stesso tempo, credetemi, comunque è molto compatto, si apre anch'esso davvero facilmente, aprendo appunto questa pratica zip, ed ecco qui tutto l'occorrente che troveremo all'interno. Allora, all'interno di questo kit troverete, eccole qui, in questa pratica confezione, che possiamo già vedere, l'apriamo per vederla un po' meglio nel dettaglio, nel quale ci saranno 6 spille da balia, 6 bottoni, 3 bottoni automatici per cucire, 20 spilli, un infilaghi, poi troveremo sempre all'interno di questo kit ben 25 aghi da cucito, un ditale, 8 diversi colori di filo, quindi vedete bianco, rosa, rosso, blu, un verde un po' più scuro, un bronzo, un verde foresta e nero, un nastro, un metro proprio al nastro, una cucitura ripper, delle forbici in acciaio inox, il tutto contenuto in questa pratica confezione in jeans. Ammettiamolo tutti, abbiamo vissuto almeno una volta un momento nel quale uno di questi due kit davvero ci avrebbe fatto comodo, quindi mi raccomando non perdete tempo, non perdete questa occasione e correte ad acquistarli perché potrebbero senz'altro salvarvi quel momento e permettervi di goderlo appieno. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli, le nostre novità, le nostre idee creative o i nostri spunti importanti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!